Io ho sentito in questi giorni un po' di affermazioni che mi hanno lasciato abbastanza basito quando dicono che Salvini se le va a cercare. Io penso una cosa, lo dico con molta tranquillità, che nel momento in cui qualcuno impedisce con la violenza, con i sassi, con qualsiasi cosa a qualcun altro di parlare, sicuramente passa dalla parte del torto. Io posso anche dire la cosa peggiore del mondo, se qualcuno la pensa in un modo diverso da me, mi contesta, ci confrontiamo, ne parliamo e vediamo chi ha ragione. Nel momento in cui qualcuno mi tira delle pietre, mi sputa, non mi lascia neanche parlare, allora vuol dire che quel qualcuno è un antidemocratico. È un antidemocratico ed è pericoloso, perché oggi succede a Salvini, domani può succedere a Renzi, dopo domani può succedere a Vendola, dopo domani può succedere a chiunque dice qualcosa che a quei signori non piace. Infatti io ho presentato una mozione e domani chiederò le firme ai colleghi senatori, anche degli altri partiti, dove chiederemo la chiusura di quei centri sociali, di quei luoghi di aggregazione, che si rendono colpevoli di fare quel tipo di azione. Bye!